Allora, di nuovo insieme parliamo un po' di Inter perché abbiamo nominato Marotta, ma insomma ieri Marotta era presente all'inaugurazione del calciomercato a Rimini, ha fatto un po' il punto della situazione in casa Inter con parole abbastanza chiare, possiamo andare a leggerle insieme, le parole del presidente Nelazzurro che dice abbiamo agito velocemente grazie al lavoro di Ausilio e Baccin, adesso va definito il portiere in entrata, poi la squadra è pronta per partire. C'è il segno di un B che non abbiamo delle necessità, quando parlo di imprevedibilità intendo anche in entrata, non solo in uscita, su Carboni dice è una nostra risorsa, studieremo con calma eventuali proposte che oggi non sono arrivate, il contratto di Inzaghi c'è una negoziazione che si concluderà con la felicità di tutti, sicuramente prima dell'inizio del campionato, quindi diciamo parole che in qualche modo chiudono il mercato dell'Inter che però in serata si è riaperto, se vogliamo non per un top, perché comunque sappiamo che Buchanan si è fatto male nell'ultimo allenamento con il Canada, la rottura della tibia da capire se andrà operato o no al giocatore, ma insomma uno stop che potrebbe aggirarsi intorno ai 4-5 mesi e quindi una perdita almeno numerica importante da capire se adesso l'Inter andrà o meno a intervenire sul mercato, anche perché in realtà bisogna dire la verità, cioè l'Inter è fatta e finita sostanzialmente, adesso va bene Buchanan, dispiace per il giocatore ma non parliamo comunque certamente di un titolare, se noi andiamo a guardare la formazione dell'Inter, una formazione che comunque ogni giocatore ha il suo corrispettivo come sostituto e sono tutti giocatori di grande livello. Nell'idea dell'Inter c'era quella di avere due giocatori per ruolo, nell'idea di Inzaghi c'è quella di avere anche una quinta punta che qua è segnata in giallo ed è de Gudmusson. Poi dopo ne ha parlato ausilio di Gudmusson? No scusa, è l'alternativa a Dumfries. Scusa Trama, Lautaro, Turan, Taremi, Arnautovic, Correa, cioè hai già la quinta punta perché devi... Detto che Correa andrà via in qualche... Gli interisti ti fanno Marsia, io non dimentico contro l'Atalanta. In qualche modo, in qualunque modo, andrà via. Visto l'Arnautovic anche che è in campo in questo momento probabilmente l'idea resta sempre quella di provare a trovare una sistemazione che ad oggi però è molto complicata per inserire Gudmusson e valutare Carboni come quinta punta, questa è l'idea. Detto ciò non imparano mai perché ogni volta che parlano di mercato chiuso succede qualcosa, parlare di mercato chiuso al 2 di luglio succede di sicuro qualcosa e qualcosa è successo perché più che non si è fatto male le prime ipotesi parlano di 4-5 mesi quindi credo che lì bisognerà intervenire. Facevi riferimento a Gudmusson, ne ha parlato ausilio in qualche modo e quindi ha tirato in ballo Arnautovic andiamo insieme a leggere le parole del DS dell'Inter che invece dà una chiave di lettura un pochino diversa perché dice che la nostra posizione è la stessa del giocatore e noi non l'abbiamo mai messo sul mercato. Questo è Arnautovic. Siamo contenti del suo contributo in questa stagione, è stato importante in tante cose oltre alle prestazioni dato tanto negli allenamenti e nello spogliatoio ai giovani in primis a Turam. Su Dumfries dice che vogliamo trovare un accordo, l'idea è allungare il contratto e migliorarlo in modo che vada bene ad entrambe le parti. E' un giocatore molto spesso sottovalutato, ha sempre dato un grandissimo contributo. Dice una mezza bugia su Arnautovic? O meglio, magari non è stato messo sul mercato, però tutti si augurano che arrivi l'offerta per liberare il posto a Gudmusson? Di fatto sì, non è sul mercato, anche perché non ha mercato questo Arnautovic. Da chi può arrivare l'offerta? È stato pagato tanto, 12 milioni di euro per portarlo dal Bologna all'Inter, ha un ingaggio importante e quindi per un 35enne oggi è tre e mezzo più bonus. Quindi è di fatto fuori mercato per le cifre che ha in questo momento l'Inter. Poi se dovesse arrivare un'offerta l'Inter la prende in considerazione e va su Gudmusson. Ma credo che possa andare su Gudmusson a prescindere se riesce a piazzare sia Correa sia qualcun altro dei vari esuberi, perché comunque nella testa di Inzaghi che firmerà il rinnovo il prima possibile e nella testa anche dei dirigenti comunque l'attacco costruito così difetta di un vice Turano. Perché anzi in questo attacco qui che vediamo probabilmente Arnautovic diventa la quinta punta. Quello che ti è rimasto e non sai più perché Taremi fa il vice Lautaro. Correa scala nelle posizioni? No, Correa va via. Ah ok, Correa proprio non lo considerate. Correa va via. Se va in Turchia, va in Arabia, va in Francia, qualunque offerta arriva per Correa va bene. Povero Tuco. Per Taremi di fatto sorpassa Arnautovic nelle gerarchie. Certo. Se si integra al meglio ovviamente. E quindi Arnautovic e Taremi non sono dei vice Turano. Non c'è quell'attaccante che sappia attaccare la profondità in velocità. E quindi un Gudmundsson, magari non Gudmundsson, cioè Gudmundsson oggi è il giocatore che stanno trattando di più, con il giocatore che ha dato la disponibilità, anzi ha messo l'Inter in cima alle proprie preferenze, è Gudmundsson. Però prima di dire affondiamo il colpo anche per Gudmundsson, va venduto qualcuno. Però arrivasse anche Gudmundsson Antonio, insomma diventa veramente un Inter stellare questa, voglio dire. Ha fatto una buona disamina perché è un giocatore che ha delle caratteristiche ben precise, che attacca lo spazio a differenza degli altri. Quindi può essere un obiettivo che può implementare alla grande un parco di attaccanti già di per sé importante. Luciano, al di là dell'essersi magari portati un po' sfortuna nel dire che di fatto l'Inter è già posto e poi stasera purtroppo si è fatto male Bucanan. Però diciamo in realtà per come si sono mossi Marotta e Ausilio magari c'era poco da correggere in questa squadra. Però mi sembra una novità importante pensare a una squadra che ha al 90% già chiuso la campagna acquisti all'inizio di luglio. Di solito non succede così, lo vediamo che tutti gli altri sono molto più indietro. Intanto non bisogna dare retta a queste chiacchiere perché la campagna è chiusa quando praticamente non si può fare più niente. Adesso l'Inter non ha tanto bisogno di giocatori, però di Gudmundsson potrebbe avere bisogno. L'ha detto Come, ma non ha detto gli altri. Quindi è un giocatore che farebbe comodo a tante squadre perché si insinua sulle linee ed è uno che vede bene la volta. Potrebbe aiutare i compagni. Per cui il problema di fondo è che non si può dire che l'Inter abbia chiuso. Diciamo che così sta bene l'Inter e può partire tranquillamente anche perché, ammesso che il calcio non dia certezze, ma se la Juventus cambia allenatore e quindi cambia sistema, se il Napoli cambia allenatore e cambia sistema, se il Mila cambia allenatore e cambia sistema, se l'Inter rimane quella che è, sostanzialmente è il dobbio con la favorita. Poi dopo sarà il campionato che ci dirà se è vero o meno, ma l'Inter parte favorita e secondo me ha ragione quando dice che noi in linea di massima abbiamo già fatto tutto. Dovremmo migliorarci se è possibile. A questo punto su Buchanan dovranno ragionare, dovranno riaprire un po' il libro? Dubito che possa essere in doie il nome. Detto che di jolly in rosa ce ne sono, Buchanan oggi era considerato l'alternativa di Marco nelle idee. Carlos Augusto potrebbe tornare su, magari si va a prendere un difensore centrale che possa fare il braccietto di sinistra al posto di Bastoni come alternativa. C'è Van Hoisden, vediamo anche come sta, è ritornato ufficialmente dall'ennesimo prestito. Il nome di Ndoie, che è quello che più è stato, forse anche proposto dagli agenti degli entourage, è più legato al futuro di Dumfries che non a quello di Buchanan. Però pare che si va ad essere rinnovo per Dumfries. Posto che appunto Ndoie ha un costo elevato nelle idee del Bologna, Dumfries sta per rinnovare quindi è un'idea che forse si porterà avanti per il futuro, non per l'immediato. Sono più convinto che magari si vada a cercare un'occasione, perché se c'è un minimo di budget da mettere ancora, al netto delle uscite che ci saranno, va messo su Gudmundson. Quindi Buchanan non era previsto un esborso per colmare quel vuoto. E quindi io sono più convinto che si vada a prendere un difensore centrale che non un esterno di centrocampo come lui. Però Luciano dice una grande verità, rivedevo un attimo la classifica e le squadre classifica dello scorso campionato, praticamente nel lato sinistro hanno tutti cambiato l'allenatore tranne Inter e Atalanta. Se consideriamo quello che dicevamo prima, l'Atalanta può essere anche implementato e può comunque dar fastidio all'Inter in ottica anche campionato e chissà sperare a qualcosa di veramente inimmaginabile, ma l'Inter parte nettamente favorita, intanto perché ha il blocco in zaghi di una squadra che ha vinto lo Scudetto e si dovrà confermare. Però faceva un'annotazione piuttosto interessante. Beh, questo è sicuramente un elemento da tenere in considerazione. Antonio, credo che l'Inter debba essere considerata la favorita indipendentemente dello Scudetto che ha sul petto. Assolutamente sì, ma l'Atalanta, come dicevo prima, per la prima volta, invece di vendere sta implementando la rosa, mantenendo la rosa completa che ha fatto benissimo l'anno scorso, quindi può essere forse la concorrente più agguerrita nei confronti dell'Inter. Almeno a bocce ferme, insomma, per quello che diciamo noi. E per me il Napoli di Antonio Conte, secondo me, sarà lì una mina vagante. E senza coppe può dar fastidio. Sì, bisogna capire, insomma, se l'Inter riuscirà ad avere la stessa continuità di quest'anno, perché quest'anno è stato veramente un rullo compressore, ha avuto anche poche defezioni fisiche, soprattutto nel reparto d'attacco, che era quello più importante. Poi ci sono annate in cui ti va tutto bene, anche appunto il lato fisico, che riesci a vincere le partite, le sblocchi, hai un segnale positivo, le vinci all'ultimo. Quando è la tua annata lo capisci, però… Segnale positivo, nel senso stai parlando del VAR? Anche. Ah, ok. Prima dicevi Marotta, mi dicevi la Marotta lì. Ah, è lui che insinua. Però l'hai detto tu. Ah, insinua, Giambuno. È la cosa tra le gambe. Era lì che diceva, parlava di segnale, faceva… No, visto che si parlava di mercato Inter, anche c'è Carboni in ordine, secondo me qua c'è un po' di carbone bagnato, quindi c'è qualcosina che si sente… Non so. Non sto capendo. Non coglie, non coglie. Non coglie. Non coglie. A proposito di Valentin Carboni, tra l'altro c'è l'interessamento del… Marsiglia. Marsiglia, vero? In realtà c'è più una butade. Così. Non c'è veramente niente di concreto, anche perché davvero il giocatore… Tra l'altro su Carboni, volendo, possiamo riagganciarsi anche nel discorso nazionale, perché lui ufficialmente aveva il doppio passaporto, poteva scegliere fra Italia e Argentina e lì quando… Beh, allora tra giocare con Messi o giocare… No, è stato proprio quella la chiave. Adesso famici pensare un secondo. È stato proprio quello che l'Italia si è mossa così tardi… Cioè, secondo me, rispetto per Retegli e per Scamacca, però tra giocare con Messi e giocare con Scamacca adesso… Però ce le avevi lì, ce le avevi lì, erano in Italia quei giocatori e tu sei arrivato a dargli la lettera di possibili convocazioni per i nazionali italiani e giovanili quando praticamente loro erano in stanza con Messi con la maglia di Messi autografata. Capito che c'è qualcosa che non va anche più in su. Quello, quello assolutamente sì. Non so, vedete… Poi comunque su Carboni finisce la Coppa America, se deve essere venduto a cifre importanti e il Marsigliano non ha grosso budget, quindi 30-40 milioni non ce li mette. Anche se credo che l'Inter vorrebbe comunque mantenere un mezzo controllo sul cartellino del giocatore. Però se proprio deve perderlo deve essere per un'offerta fuori mercato per un ragazzo così giovane. Vogliamo dire dai 30-40. 30-40. Quindi ad oggi non credo li valga, sinceramente. Magari li varrà, cioè non credo li valga, però quanti giocatori… Stai facendo gongolare Matteo Mosconi, per quanti giocatori si mette un prezzo più alto di quello che vale proprio per evitare di perdere? Cioè se devo perderlo allora deve essere qualcosa di fuori mercato. Fuori mercato vuol dire fuori dal suo valore. Io non credo che Carboni valga 30-40, però se l'Inter deve sacrificarlo deve essere per un'offerta oltre il suo valore. Per cui le valga… E il Marsiglia quelle cifre non le ha. Oh Mosconi, vedi che c'è qualcuno che la pensa come te. No, meno male. No, basta raccontare le cose come stanno. Meno male. Però sta prendendo… È un giocatore di qualità importante, però ho sentito dire che vale 30 milioni… No, no, ma non sto dicendo… Il concetto è proprio quello che c'è di sbagliato. Coopminers vale davvero 70 milioni, li vale? Vabbè, dovremmo dire… Non lo so. Oilund vale veramente 80 milioni. In un mercato così per me Coopminers 60 milioni li vale. In un mercato di queste cifre. Sulle vale davvero 40 milioni. No, ha ragione lui. Se il mercato tra virgolette è malato, allora Coop ne vale più di 60. Ma io sui giovani ho detto… Sì, è quanto viene richiesto. Però poi al netto di tutto, cioè Barencea e Eiling, la Juventus li quotava cifre folli, in realtà poi sono stati messi nel pacchetto con Douglas Lewis e le valgono 22. E' stato tirato verso il basso anche il costo di Douglas Lewis sul totale. Beh, comunque 28. Perché? Perché nelle questioni di bilancio serviva la quota ammortamento di Douglas Lewis per non farla troppo alta. Quindi tutti e due i club hanno concordato nel tenere basse le cifre. Sì, sì, però è normale che vengano sparate certe cifre per cui… Ma faccio un altro discorso un po' più semplice. Oysen, Oysen, Uysen, vale 30 milioni oggi? Che ha fatto otto presenze con la Roma? No, assolutamente no. E' quella la cifra che sta chiedendo la Juventus per venderlo. E quindi li vale quei 30? No, però per venderlo servono 30 milioni. Carboni vale 30 milioni? No, ma infatti io sostengo che siano delle cifre folli. Ma lo dico in generale, non lo dico su Carboni perché… Non sono folli nel momento in cui trovi qualcuno che te le paga. Perfetto. Io sono dell'idea che sono folli. Poi se qualcuno le paga, per me chi le paga è un folle. Dicono la verità. Cioè io sono coerente con quello che penso. Non sono le cifre che sono folli e folli e chi le paga? Sono cifre folli e folli chi le paga. Che ha detto nel mercato però, quindi alla fine è il classico… Sì, sì, ma è un certo che si chiude. No, sì, sì, ma infatti. Cioè Neymar 222 milioni? Ma infatti, sono d'accordo. Ma non aveva un senso. Parte tutto da lì alla fine. Ma non aveva una logica infatti. Però per sopperire al fatto che comunque gira sì del danaro… No, Guirassi è andato… Borussia Dortmund. Sto vedendo che prende sempre… Non è un malagazzo. Non ancora, non ancora. Lui ha info di prima, ma… Non ancora perché… Ma ci sono problemi sulle commissioni. Davvero comunque. Queste commissioni. Ma dico, vedo che prende sempre più campo l'ipotesi del ti pago un po' meno, ma ti do una percentuale cospicua quando eventualmente rivenderò il calciatore. È una cosa che sta prendendo sempre più campo. Non per i top club, ma per i club medi che rivendono sì. Cioè, tipo, penso il Basilea, quando ha rivenduto Ndoie e Calafiori al Bologna, ha messo 40-50% di futura rivendita. Cioè, per dire, la Lazio, che non vedo in questo momento in grado, non perché Lutito non abbia il danaro, ma per spendere i 30 milioni che chiede il Geno per Gudmundson, pare abbia offerto il tenedo di meno, ma poi ha il 50% quando lo rivendi. Quindi, eventualmente, è una cosa che piace. Sono strategie diverse per comporre un'offerta, no? Può esserci la recompra da una parte, può essere la richiesta di un prestito. Guarda, la Juventus con Douglas Lewis, sì, d'accordo, 28 milioni, ma pagabili in 5 esercizi, mi pare. Allora, ormai è quasi la prassi di dilazionare i pagamenti. Però, sul totale, questa formula sta tornando, proprio perché, in un'ottica di sostenibilità, che è la parola chiave per tutti, ormai, cioè nei bilanci, quello che più fa fede nella compilazione dei bilanci oggi è il costo annuo della rosa, ovvero il costo degli emolumenti, quindi degli ingaggi dei giocatori all'ordo, più il costo dell'ammortamento del costo del cartellino. Quindi, se io ti do una percentuale sulla futura rivendita, quella percentuale magari mi fa abbassare il costo immediato e quel costo immediato mi fa abbassare il valore dell'ammortamento su base annuo. Quindi, io, club, che vado ad acquistare, magari ci perdo nel futuro, però nell'immediato sto nei costi che mi sono imposto. Comunque, questa è un tecnicismo. Cioè, in passaggio ci sono, ne abbiamo visti tanti di escamotage, il cartellino diviso a metà, Sì, sì, sono formule diverse. L'ultima notazione di mercato sull'Inter, Martinez domani dopo domani dovrebbe fare le visite mediche e quindi diventare nuovo portiere dell'Inter con l'idea di essere un vice Sommer. Questa è una cosa un po' curiosa, se ne parla poco, l'idea però è quella di dargli la porta tra due anni. Ma tra due anni ci sono i mondiali. Cioè, Sommer accetta nell'anno dei mondiali di fare il vice di Martinez? Non lo so, cioè, altro tema, eh? Io vedo già quest'anno, sarebbe stato di più secondo me se avessero preso Bento invece di Martinez, però più o meno il concetto è lo stesso. Io vedo già quest'anno una forte alternanza. Perché comunque sia le competizioni sono tante, perché comunque sia Sommer sta comunque andando in là con l'età. che non sono d'accordo sia per forza una cosa positiva. Ma a livello Andanovic o Nana? Cioè, alternanza così? Esatto, ma non è che fosse andata alla grande. All'epoca quando Nana prese il posto, Andanovic non giocò più, eh? Vabbè, ma inizialmente vi ricordate che gioca uno, gioca l'altro e facevano male i transi. C'è un'alternanza che costò qualche punto all'Inter. Cioè, Onana era da mettere a titolare subito, Andanovic era da pantinare. Poi Onana prese il posto. Però è un discorso diverso. Cioè, cambiare i portieri... In casa Inter si sono resi conto che quel concetto lì... E' un ruolo molto particolare. Il titolare deve avere una fiducia non indifferente. Quindi io credo, come posso dire, è la storia che dice quello. Difficilmente puoi trovare due portieri che si alternano durante il campionato e coppe. Poi la Coppa Italia può essere una soluzione di far giocare il secondo portiere, ma in campionato c'è una gerarchia. Sì, poi ci sono degli esempi in cui ti va bene. Vedi l'Atalanta quest'anno con Musso, Europa League, che poi l'ha vinta. Carne Secchi ha fatto benissimo in campionato. Sì, stiamo parlando anche al Bologna che fa giocare Scrutti e Ravaglia. Stiamo parlando comunque di un portiere Musso, che è un signor portiere nazionale argentino. Non è un... Assolutamente. No, no, chiaro. Però io ragionavo su quello che dicevi tu, sul dualismo e il fatto comunque le gerarchie. Musso era arrivato due anni fa per fare il titolare al 101%. E poi alla fine... E non ha fatto benissimo e quindi si è messo in una condizione di essere messo un po' in discussione. Questa alternativa non si è riscattata. Certo.